E ora chi è il fallito? Sei diventato matto! Cosa spetta ti fa? Il secondo posto? Ora! Pensa e fatti fuori! Non riesci a respirare! Ma così l'ammazzi! Sensei, per piacere, lascialo stare! Ti chiedo scusa, ok? Ti chiedo scusa! Lascialo andare! Sfolla, muso giallo, se no tocca a te! Pietà, roba da deboli! Qui non insegniamo ad avere pietà! L'uomo che avete di fronte è solo un nemico! E un nemico non merita nessuna pietà! Ora! Daniel San, è ora di andare a casa! Potevi ucciderlo se volevi! Hai! Perché non l'hai fatto? Perché Daniel San è l'uomo che non ha il perdono nel cuore! Vivere punizione peggiore della morte!